Termina 1-1 il big match di giornata tra la capolista Ottavia e il grifone giallo-verde. La prima occasione del match è per il grifone con Monaco, ma Cappelletto blocca facilmente. All'undicesimo incomprensione tra i difensori giallo-verdi. Rosati si lancia verso la porta, Mammancini salva in scivolata. Al sedicesimo è ancora il numero dieci protagonista quando viene affrontato da Secci in aria. L'arbitro giudica fallo e assegna un dubbio calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Mancini. Pensa, intuisce, ma il tiro è troppo angolato ed è vantaggio per l'Ottavia. La risposta dei padrone di casa arriva con Cacchioni, ma il colpo di testa è alto. Alla mezz'ora ancora Grifone pericoloso. Manganelli lavora un buon pallone sulla destra e serve Cifani. Il tiro troppo angolato termina sul fondo. L'Ottavia si fa viva due minuti dopo, da calcio d'angolo. Ma il tiro di Cesaro è potente ma non preciso. Al trentatreesimo, grande protesta per i padroni di casa. Monaco entra in aria. Felici lo contrasta, il numero quattro giallo-verde cade a terra. Per l'albitro è simulazione tra le vibranti proteste del Grifone. Allo scadere, brivido per gli uomini di Mister Berruti. Felici tira a botta sicuro a Matteo Mancini. Salva sulla linea. Nella ripresa, prima occasione per gli ospiti. Il tiro di Rosati esce di poco fuori. Al decimo, Cifani lancia centrale per Manganelli. Il tiro del numero dieci di poco a lato. L'Ottavia sfrutta il contropiede per rendersi pericolosa, come al dodicesimo. Ma pensa, si supera. E salva su Cesaro. Al ventiduesimo arriva il meritato pareggio dei padroni di casa. Mancini salta di testa, Cappelletto respinge. Ma non può nulla sul tapin vincente di Mangione, che realizza la rete dell'uno a uno. La risposta dell'Ottavia arriva appena due minuti dopo. Ancora una volta si ferma sui guanti di Davide Pensa, che respinge il tiro di Cesaro. Sul finire di partita un'occasione per parte. Prima il neo entrato Dionisi, ma Cappelletti blocca sicuro. Poi, dalla distanza, ci prova Angelotti, ma la conclusione termina sul fondo. Termina così, con un gol per tempo. Il match tra il grifone giallo-verde e l'Ottavia. Appuntamento contro la compagnia portuale tra una settimana.